Ciao ragazzi, è tornata di nuovo disponibile la ZV-E10, quindi in questo video piccolo aggiornamento sul mio canale YouTube ti voglio avvisare che finalmente dopo la crisi dei microprocessori si può riacquistare, tra l'altro su Amazon ad un prezzo abbastanza basso di 750€ e per le caratteristiche che questa camera offre sono davvero dei soldi ben spesi, ben investiti. Tra l'altro se vuoi giustamente fare un acquisto consapevole, non di impulso, hai disponibile sul mio canale YouTube due video il primo girato 7 mesi fa dove metto a confronto la ZV-E10 all'Alpha 6600 che sto usando in questo momento, la ZV-E1 e l'Alpha 6400 e invece adesso è disponibile anche un nuovo video dove riassumo le 10 caratteristiche, quindi 10 motivi per cui ha senso acquistare una ZV-E10 come prima videocamera per iniziare a creare contenuti come ad esempio i miei, per quindi vendere o comunque creare i propri contenuti per i propri personal brand. Quindi se ancora non l'hai fatto, trovi qua sotto i miei due video tutorial per approfondire e ovviamente se vuoi puoi utilizzare il mio codice affiliato di Amazon per supportarmi se ovviamente hai trovato utili questi video che ho realizzato per te. Noi ragazzi ci vediamo nei prossimi video, ma soprattutto se vuoi approfondire con me e hai bisogno di aiuto per creare i tuoi contenuti e per il tuo personal brand, trovi tutti i contatti e gli approfondimenti qua sotto in descrizione. Mi raccomando seguimi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!